Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e sul canale YouTube by Education Oggi disegniamo un bel gattino con la sciarpa Dai non è difficile, vedrai che ce la puoi fare anche tu a disegnarlo Puoi colorarlo con gli acquerelli, puoi colorarlo con i pastelli, con le tempere, con i penarelli Come più ti piacciono, è importante seguire i video tutorial così lo disegnerai proprio così Se il video poi ti è piaciuto ricordati di lasciare un commento, un like Iscriverti al canale YouTube by Education E invita anche i tuoi amici che potete fare le challenge su chi lo disegna meglio Comunque se accettano tutti i disegni, non importa se sono precisi o non precisi Se ti va, quando l'hai disegnato, mi puoi taccare il mio status di Instagram E ricordati di taccarmi profondamente, io non lo vedo così lo posso ripostare E far vedere a tutta la community come lo hai disegnato bene E seguito benissimo il tutorial Adesso infatti ti lascio il video tutorial così lo puoi disegnare Non è tanto qualcuno, non è tanto qualcuno, non è tanto Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.